Quel tiro pazzo nelle battute finali della partita con il Gubbio, un gol impossibile che si materializza anche con l'aiuto del vento. Filippo Guccione ci racconta e non ha problemi a dichiarare che... Il mio obiettivo era quello di calciare verso la porta, quindi insomma, sono contento sia andata così. Quello che voglio dire è che comunque non volevo crossare, quindi è andata bene. La cosa più importante erano i tre punti e quindi ce li teniamo stretti. Quel gol però è stata un'autentica liberazione. Ce lo meritiamo noi, tutti noi ragazzi, stiamo lavorando tanto per cercare di raccogliere sempre il più possibile e anche per tutta quella gente che ci segue in casa, che ci segue in trasferta, se lo meritavano. Quindi insomma è stata una liberazione per tutti e tre punti che comunque abbiamo sofferto e ce li siamo guadagnati sul campo. E in vista della trasferta di Pesaro, ecco il pensiero di Guccione. Noi cerchiamo di lavorare sempre, tutti i giorni sul campo, cerchiamo di dare il massimo e quindi cerchiamo sempre di fare i tre punti sul campo. Poi se non dovessero arrivare, noi dobbiamo uscire dal campo senza recriminarci nulla. Quello è l'obiettivo principale che ci diamo prima di entrare in campo. Grazie. Grazie. Grazie.